musica il censimento fotografico di un paese i volti di Celano cittadina nel cuore della Marsica in Abruzzo immortalati negli scatti di Robert Presutti il fotografo italo-americano lascia i grattacieli di New York dove vive e torna nel paese natio per dar vita ad una magica follia voluta dalla fondazione Fabio Piccone fotografare ogni cittadino e col ricavato l'offerta minima è di 20 euro acquistare un'ambulanza per la misericordia di Celano è un progetto un po' ambizioso perché miriamo almeno di fare sulle 2.000 persone Celano fa 10.000 abitanti, speriamo anche di più musica 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 una cosa più importante comunque col ricavato stiamo comprando un'ambulanza per la misericordia di Celano perché in questo momento ne hanno veramente bisogno è non solo un documento storico del paese ma anche un documento per le future generazioni per rivedere le foto dei genitori, dei nonni, degli zii, dei fratelli casomai che poi sono dei volti che oggigiorno come personalità non veramente non se ne trovano più apprezzatevi di più ma come se fossero maschi c'è di certi personaggi che il loro viso racconta più di un libro intero in piedi ma facciamo in piedi avvicinati no 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 ma stai col giubbetto è bello si mi piace col giubbetto fa pure fresca io mi sento di caldo veramente no 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 piuttosto Grazie a tutti.